Il ritorno sul parquet del pallarugge di Vincenzo Esposito che peraltro a Imola aveva calcato anche altri parquet quando la squadra era in Serie A da playmaker subito il pallone per lui Beh, ovviamente da coach almeno deve fare il playmaker poi magari comincerà a fare quello che è capace di fare Attacca, batte Soragna 4 su 4 a Frosinone, 5 su 5 I tirribili non sono mai stato un problema per lui, semmai per gli avversari E' un act Eccole qua, due ere della fortitude a confronto per Esposito contro Basile L'abitatura è una gran fregatura Ma a volte uno strappo è una necessità A chi va bene, a me va male E sono un'anima E sia tutta la storia è una grassa vigilia A chi va bene, a chi va bene, a chi va bene, a chi va bene Esposito... Il primo canestro su azione al pallarugge da ritorno Palla di Esposito da gioco a 2 per Tortei Però sta veramente, diciamo, una partita molto attenta Vuole guadagnarsi i minuti importanti anche in futuro La vinta di Esposito Guardate Sì, deve andare in angolo, sbilancia Cefarelli E poi in sottomano Basile anticipa Esposito Poletti Eccolo E' il Diablo Sale per farci consegnare il pallone Micevic aiuta e recupera Esposito contro Basile Ormai è un duello La vinta di Esposito Altro miracolo del Diablo Che prova a caricare il pubblico E adesso, obiettivamente Non so quanto fosse facile prevederlo Però ci divertiamo davvero Ci divertiamo davvero Si diverte un po' meno a posto Si è chiamato Giota Imao Non è risposto ma via Il Diablo Alle Final Six non sarebbe stato facile Disposito Rompe il pallegio Vorrebbe riaprirlo grazie ai Corrieri Così fa Pallegio, arresto BEMBA E grido di battaglia Del Diablo Sua santità Del Diablo Sei, sei, sei Ehi, sei, sei Ehi, sei Ehi, sei Ehi, sei Grazie a tutti